Ciao a tutti, buonasera. Io vengo dalla Scozia, conosco pochissimo italiano, a parte del fatto che Nicolás mi ha portato qui a Rimini per parlare della musica del DNA. Io sono solo quattro anni che mi occupo di DNA mentre invece ho studiato musica da tutta la vita. E con grande sorpresa ho scoperto che sono entrambi la stessa cosa. Sia dal punto di vista del sistema che dal punto di vista della funzione. La funzione del DNA è di tipo biologico, quella della musica è di tipo spirituale. È da 27 anni che si studia e si effettuano ricerche sulla musica del DNA. Questo è un articolo del 2008 del National Geographic. E recita così, il vostro DNA è una canzone, gli scienziati utilizzano la musica per codificare le proteine. E' curioso questa cosa, ma parliamo di scienziati con una cattiva vista. Sono riusciti a comprendere meglio il DNA invece che leggere ascoltando il DNA. Per cui è solo un caso alla fine che il concetto e la scoperta della musica del DNA è stato divulgato. I biologi hanno convertito le sequenze delle proteine in musica classica. Hanno trasformato le sequenze delle proteine nella musica classica nello sforzo di aiutare gli scienziati che avevano problemi alla vista e diffondere la popolarità della biologia genomica. Per cui il fatto che il DNA abbia una struttura musicale sicuramente indica che dal punto di vista corporeo la musica fa profondamente parte di noi. Ad esempio, sia io che Nicolas abbiamo questa idea, questa convinzione, che la maggior parte di noi nasca artista, quindi con la capacità anche di generare musica e di entrare in collegamento profondamente con gli altri. Ad esempio, adesso vi dimostrerò che ognuno di voi è un musicista. Ognuno di voi potrebbe rispondermi, ma no, non sono un musicista né un artista, non ho tempo di occuparmi di questo, sono completamente stonato, non ho orecchio musicale. E ad esempio, è impossibile per alcuni di voi essere in grado di leggere la musica. E adesso vorrei che vi unissi a me in questo canto. Questo per dimostrarvi che siamo tutti dei musicisti. Adesso canteremo insieme questo brano di musica dall'inizio alla fine. facendo appello alla capacità del nostro DNA che ci rende musicisti. Adesso io comincerò e voi mi seguirete per circa 16 battute usando solo la memoria. Come vedete siamo tutti dei musicisti potenziali. Buona notte. Buona notte. Buona notte.